Porterà in giro in diverse scuole italiane uno spettacolo scritto e diretto da te dal titolo Leggenda Rossa. Sì, e devo dire con Sebastiana Eriu che fa il ruolo di mia figlia nel racconto. È un giornalista che trova casualmente l'Agenda Rossa di Paolo Borsellino nella bancarella e da lì parte un racconto che descrive la città, descrive Paolo, Paolino, dico il giudice Paolino, nel suo contesto, nella città che amava e nella città triste e buia che noi conosciamo dagli anni 90. Quindi è un modo per raccontare Palermo a 360 gradi ai ragazzi, agli studenti del nord e poi del sud Italia. È importante continuare a mantenere viva la memoria su personaggi del genere che hanno cambiato la storia del nostro paese. È la storia della nostra città, è la storia del nostro paese ed è una storia che ancora esiste. Ancora noi viviamo in quella dimensione lì, non è cambiato nulla se non il fatto che non ci sono per fortuna più le stragi, non ci sono i morti ammazzati che c'erano tutti i giorni all'epoca. Però la mafia c'è, ci sono i borghesi dei colletti bianchi che sono la nuova mafia e quindi Subdola che si insinua. Dobbiamo parlare di quello che è successo per capire quello che sta succedendo. E i ragazzi giovani devono saperlo oggi, perché loro saranno il nostro futuro e dovranno occuparsene poi loro.